Sì, sto stanco che sono. Giornata del merda. Giornata del merda. Cosa c'è? Ma niente di casa, ma giornale, sempre da lavorare. No, lavorare, guarda. Sempre che ti dà il minimo. Sì, è arrivato dopo, si fide la banca perché... Sì, è arrivato? Ma, sì, è arrivato anche dalla carta del credito. Eh, guarda allora. Ho paura, guarda, guarda. Ma già, guarda, guarda. Una carta di credito bisogna minarsi la serata adesso, no? No. Eh? Sai che io sono qua che stiro dalle 4, adesso sono le 9, adesso sono ancora qua che stiro camicia, eh? Ma è uguale il passaporto? Certo, l'abbiamo rinnovato. No, ho detto che io sono dalle 4 che sono qua che stiro, eh, ragazzo? Ma è però un po' di rinnovato, è che è una buonasera, eh? Ma dai. Davvero, amore? No. Ma sai? Davvero, davvero, dici questo? Sì, sì, non puoi rinnovare che le 4 vuoi di testire, veramente. Ma sai cosa è successo oggi? No. È un miracolo. Oh, madonna. È un miracolo. Sì, ora che è successo. Guarda, oggi ho comprato questo prodottino qua. Cos'è lo? 30 ml di giovinezza. Eh, che è stata la rea? No, dalla glenda. Ah, e la cliente la lavora dove? Stetista. Ah, no, a te. Guarda, 240 euro di giovinezza, poi c'hai il contornocchi, la crema a giorno, che va bene anche di notte, però questo è miracoloso. L'hai notato anche te, difatti, ma hai detto che è uno stilo da patrone, no? Totalino? Non te lo dico. Dove neanche la prossima strata a conto. Come? Ma vabbè, intanto hai notato un miglioramento, non tanto stamattina? Eh, non sei felice? Invece che andare nel chirurgo estetico con quello lì? No, mi sono ben felice, però... Eh, cosa? No, potrebbe essere quelle cartelle lì e ti diventi tutt'altro che felice. Ma andata, devi morire con tutti i soldi, cosa te ne frega di lasciare qua? Non è quello di morire con tutti i soldi, però... Eh, allora, te l'ho detto già una volta, bisogna dare commercio. Queste camicie qua bianche, te le metto su tutte, le compro nere, così a me lo tenia su una settimana, mi ha messo l'energia elettrica e io posso spendere spante da altre parti. Vabbè, devi far cambiarlo ogni dì. E per forza spuzza, no? Eh, insomma, vuoi andare a lavorare che spuzzi? Ah, vai, ascolta, ascolta, ma la cosa è arrivato? Cos'è la cartolina? Leggi. Louis Vuitton, eh? Gentile cliente, abbiamo... Ti dobbiamo andare con? No, abbiamo il piacere di condividere con lei l'universo e i nuovi arrivi della Louis Vuitton. La ammettiamo a scoprire nuove e ultime creazioni, in attesa di poterla concentrare all'occasione della sua prossima visita, la portiamo a nostri più cordiali saluti. Eh, e questo vuol dire? Che qua c'è tutta la collezione nuova, guarda. Eh, perfetto. Ma non ti riesci a lasciare di quelle che te gari? Sì, io non ho bisogno di altro, però, oddio, se ci potesse, c'è sempre qualcosa che mi piace, che mi manca, però, ho visto una bella portantina per lettere. Una portantina per lettere? Ho visto che c'è un giornale. L'universo di una giuglia aveva la tracola delle Louis Vuitton dove veniva fuori il musettino del cagnolino. Io pensavo al musettino del letto che veniva fuori mentre andiamo al museo. Sai che bello che è? Ma prima di una torta il guinzaglio, no. Ma il guinzaglio non va bene, il museo non lo può portare il guinzaglio. Dai, 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 dai. E dove è il domenico questo? A Verona, infatti domani, domenica, starei a casa, andiamo a fare un giuglio lì. Domenica è aperta, tutti vedete, tutti sono domenica aperta. Ok. Stavo dicendo a venerdì, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Ah, aspetta. Dai. Sai oggi cosa è successo? Eh? Sai cosa è successo? No. Oggi è venuto l'educatore per lettere. Come l'educatore? Sì, abbiamo imparato a tenere un guinzaglio. Non devi andare alla scuola il cagnolino. Sì, però per camminare ha bisogno di essere educato. Sì, cammini anche per soccorso senza educatore. Sì, però, ma così risponde, bravo, poi ubbidisce i comandi, seduto. Ah, e quanto ha il voluto l'educatore? Una miseria. Cioè? Non te lo diciamo, se no stai in ultimo, lo siamo distrutti. Una miseria. Dai, vai col papà. Dai, vai col papà. Adesso anche la scuola sta ficando. Certo. Dai, resta di, ma che fai male? Sì, 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 sì. Ti costi dei tuoi della mamma. Sì, sì, sì. Ma che sto chiamando, sto chiamando, che educatore. Ho proprio fatto la mamma. Voi te l'ho capito. No, 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 aspetta. Vieni. 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 E dove vado? Vado un giorno avutando. Dove che vado? Ma piantala lì, anche te con sti soldi, ma sei tutti i due uguali, ma potete sposarti col Cornelio, ma che... Va bene, va bene. Dai, dai, ma vado a prendere dai morocchini, ok? Dai, ciao. Saluto al papà e buonanotte. Ciao, ciao.